Buonasera pubblico, buonasera terese, buonasera a questo straordinario quartiere a cui qualcuno, verso il quale qualcuno ha creduto e sta credendo. Avevamo fatto una promessa, che era quella di riqualificare quest'area e di iniziare a rivitalizzarla. È un piccolo passo questo, ma è uno dei tanti che faremo nel proseguo. E' un monstro! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!